È un periodo di ferie ma la provincia di Salerno non si ferma sul fronte della manutenzione delle strade, soprattutto quando le arterie provinciali sono interessate dai flussi turistici dell'estate. Il nostro obiettivo resta sempre quello di tutelare una mobilità sicura nei nostri territori. E' quanto ha dichiarato ai nostri microfoni il presidente della provincia di Salerno Michele Estrianese, ripercorrendo il lungo elenco di lavori in corso e completati di messa in sicurezza delle strade provinciali. Quasi completati a Oliveto Citra e Roccadaspide i lavori di messa in sicurezza delle strade rispettivamente della strada provinciale 9 e dell'ex strada statale 488. Diversi lavori quelli fatti e programmati in modo particolare sulla Cilentana. Ma guarda a sud abbiamo iniziato tanti lavori, io proprio l'altro giorno sono stato come dicevo a ballo della Lucania anche per illustrare ai sindaci gli interventi fatti, gli interventi in corso, quelli programmati per il futuro. In particolare sulla Cilentana come sapete sta lavorando adesso già l'ANAS che ha preso in gestione la strada da gennaio ma nel frattempo stiamo realizzando ancora dei lavori anche noi, lavori che avevamo già appaltato prima del trasferimento di proprietà diciamo così di gestione e per esempio a Rocca Gloriosa sulla 430, a Montano Antilla sulla 430 sempre stiamo facendo la messa in sicurezza di una serie di frane che si erano anche questo con i fondi POR Campania 2014-2020 sul distesso idrogeologico che ci hanno trasferito dalla regione. Parliamo di cantieri di 500-600 mila euro di investimento per realizzare palificate e quant'altro. Le abilità invece per quel che riguarda le strade che conducono soprattutto verso le località balneari che poi sono quelle un attimino più trafficate durante questi giorni? Io parlavo proprio della Cilentana perché è come dire la via del mare principale che poi si dirama su tutte le località del Cilento però siamo abbastanza diciamo pronti per le zone costiere abbiamo fatto interventi sulla Mingardina, sulla 562 come ben sapete dove c'era proprio un problema di erosione marina ma stiamo lavorando su Buccino, abbiamo lavorato a Buccino nella zona industriale chiudendo un lavoro di un contratto d'aria che si prolungava da tanti anni dove è stata realizzata la rete idrica all'interno della zona industriale e finalmente abbiamo completato anche questo lavoro, stiamo sbloccando parecchie opere da questo punto di vista che erano ferme. Abbiamo lavorato a Giffoni anche in vista del festival di Giffoni, il festival del cinema che è in corso, che sta accogliendo tanti visitatori, abbiamo anche lì messo in sicurezza è finito proprio in questi giorni. Ovviamente cerchiamo di dare risposte un po' su tutti i territori, in particolare in questo momento le zone costiere, il cilento che è frequentato da tante persone.